Ciao a tutti nel mio nuovo studio, ovviamente scherzo, questa è una location improvvisata dovuta al fatto che anche io le mie cose da fare, tra i figli da portare avanti e indietro quindi ci attrezziamo così ma noi siamo gli youtubers e va bene così. Allora parliamo di referendum, si è detto che questa è la vittoria dei populisti, si è detto che i giovani hanno votato disinformati, qualcuno ha detto perfino che i giovani sono stupidi, sono superficiali, non sono abbastanza informati, ecco io credo che al contrario possiamo parlare di vittoria dell'informazione rispetto alla semplificazione, perché dico questo? Perché se voi avete seguito Renzi nell'ultima puntata televisiva dove è stato ospite, faccio l'esempio di Porta a Porta da Vespa o addirittura l'ultima puntata con la Gruber, avete visto che era molto restivo a entrare nel merito e qualunque osservazione, qualunque critica mi ricordo la puntata con la Meloni, qualunque invito ad approfondire veniva liquidato come siete nervosi, avete paura che vinca il sì oppure come non voglio entrare nel merito, se votate sì si va avanti, si cambia, sì è futuro, se votate no nulla cambia e quindi vi tenete il Senato, vi tenete gli stipendi, le spese eccetera. Questa è chiaramente una linea di comunicazione, lui ha fatto suo il tesoro di insegnamenti berlusconiani, sapete che lui era un discepolo di Silvio Berlusconi, non tanto per le sue partecipazioni alla Ruota della Fortuna con Mike, buongiorno, non tanto anche se questo è un segnale indicativo per il fatto che è voluto andare ospite quando era sindaco di Firenze ad Arcore, quanto perché la sua discesa in campo alla Leopolda è stata orchestrata da qualcuno che si intendeva di coreografie e scenografie e che guarda caso era un grande manager della Fininvest e mi riferisco ovviamente a Giorgio Agori, quindi lui ha fatto suo l'insegnamento e il tesoro del suo maestro Silvio Berlusconi quando sosteneva che gli italiani fossero un popolo a cui fosse necessario spiegare le cose come a bambini delle medie, bambini delle scuole medie, perché oltre a quel livello di comprensione della realtà non sarebbero andati, a dire il vero questi dati sarebbero confermati anche da una ricerca, forse dell'Ocse, che ha trovato che il 70% degli italiani sono analfabeti funzionali, ovvero non sono in grado di leggere perfettamente ma non di comprendere il testo scritto. Su questa scia Berlusconi sosteneva che la campagna elettorale sarebbe stata da farsi con un linguaggio comprensibile a un ragazzo di terza media e così ha fatto Renzi, ha condotto la campagna elettorale per il referendum, per il voto a sì, come se dovesse rivolgersi a bambini al più della terza media, quindi parliamo di roba di 13-14 anni. Questa è stata una strategia ovviamente comunicativa, forse suggeritagli da quel Filippo Sensi che è il suo portavoce, ma è anche lo spin doctor, formatosi alla scuola degli spin doctor inglesi ed ecco è stata una linea perdente. Il 60% degli italiani ha ritenuto le sue spiegazioni, le sue giustificazioni, le sue motivazioni per il cambiamento di una carta costituzionale già in vigore da una settantina d'anni che bene o male ci ha sempre tutelato da pericoli di diverso tipo, non da tutti come vedremo, ha ritenuto queste sue spiegazioni assolutamente insufficienti. Questa è un'ottima notizia, questo vuol dire che chi ha votato no e a sentire autorevoli esponenti renziani in molti giovani hanno votato no, significa che al contrario di quello che vogliono farci credere hanno riflettuto, hanno valutato, non gli è bastato sentire votatesi se volete ridurre i costi della politica perché sapevano che la politica innanzitutto ha bisogno di tempo, è necessario tempo per produrre decisioni giuste, lo scopo della politica non è costare poco, è produrre decisioni giuste. Inoltre se volessimo allargare il discorso, se questo fosse un paese di sovranità monetaria il problema dei costi non si porrebbe neanche. Hanno scelto no perché non hanno creduto al fatto che il bicameralismo perfetto fosse un'anomalia assolutamente da superare, hanno scelto no perché non hanno creduto opportuno dare tutti i poteri, specialmente in combinazione con questa legge elettorale l'Italicum, a un solo uomo e questo uomo ovviamente se avesse vinto il referendum non avrebbe potuto che essere Renzi. Hanno scelto no anche perché hanno capito che Renzi era la marionetta il burattino dei poteri forti. Sappiamo che durante la sua campagna elettorale interna per la conquista della leadership del Partito Democratico lui ha incontrato numerosi speculatori, numerosi personaggi altolocati nell'ambiente della speculazione finanziaria, li ha incontrati a Milano e in altre località. Quindi era evidente, come è evidente che fossero state le grandi banche d'affari, ma anche e soprattutto la JP Morgan, mi pare nel 2013, a richiedere con forza che le vecchie costituzioni socialiste del sud Europa venissero superate per far sì che ci fossero paesi più pronti, più disponibili a recepire con urgenza i dettami dell'alta finanza, degli imprenditori, delle multinazionali, dell'elite che necessitano di pecore, che brucano l'erba senza dare troppo fastidio. Ecco, gli elettori e quindi anche i giovani elettori hanno scelto no, perché non ritenevano che l'Italia dovesse adeguarsi a queste richieste provenienti da molto in alto. E quindi questa è una vittoria della consapevolezza, è una vittoria dell'approfondimento, è una vittoria per tutti quelli che ritengono che non vogliono essere presi più in giro da persone che vanno in televisione liquidando demolizioni controllate della democrazia, dei diritti dei cittadini italiani liquidandoli come una necessità dovuta a un'urgenza, una necessità dei tempi che cambiano, dei mercati che fanno pressione. Pensate, i mercati, i tempi, quali tempi? I tempi prendono una decisione, prendono una decisione buona, sono gli stessi oggi rispetto a quelli che erano nel 1948. Chi vi dice che c'è bisogno di urgenza vi sta semplicemente comunicando che esiste un governo ombra probabilmente trasversale ormai internazionale che ha semplicemente desiderio di utilizzare il popolo come un manodopera di basso livello o come un popolo semplicemente di consumatori e di farlo in fretta perché non ha tanto tempo da aspettare per segnare un bel valore positivo nei suoi flussi di cassa. Quindi una vittoria della consapevolezza, una vittoria della rete, una vittoria dell'informazione libera, una vittoria della consapevolezza culturale degli italiani e dei giovani italiani. Cosa succederà adesso? Non bisogna correre il rischio di festeggiare troppo in fretta. Quando Berlusconi venne destituito e uscì sostanzialmente da Palazzo Chigi per mano di manovre che poi si scoprì erano state portate avanti da Napolitano e da Monti per mesi addietro e tutti festeggiavano. Io scrissi che c'era poco da festeggiare perché per quanto il governo Berlusconi fosse criticabile si trattava comunque di un governo eletto e quindi rappresentativo di una volontà, di un volere democratico del paese e mentre non si sapeva in base a che cosa e chi avesse tramato nell'ombra per destituirlo e soprattutto che cosa sarebbe venuto dopo. Se vi ricordate, se già seguivate www.com all'epoca, fu tra i primi se non il primo a denunciare nel posto tutto tranne democrazia, quali erano i grandi legami internazionali e gli interessi che perseguiva Mario Monti. Ci troviamo in una situazione simile, una situazione dove gli equilibri di potere adesso in questo momento sono fortemente sbilanciati e dove le eliti internazionali che non è che spariscono nel nulla dall'oggi al domani si trovano a dover gestire un cambiamento e a cercare di preservare i loro privilegi e la loro roadmap verso il controllo globale, verso il mondialismo, la globalizzazione e quindi è impensabile che in un paese come l'Italia, più che da Mattarella forse garantito dalla presidenza degli Stati Uniti d'America, o come dice il grande Fasanella, da sua maestrale regina dai servizi segreti inglesi, è impensabile che per un paese come questo non ci sia già pronto un piano B. Questo piano B è molto preoccupante, bene fa il Movimento 5 Stelle a richiedere le elezioni immediatamente, anche andando con l'Italicum che chiaramente lo favorirebbe molto se fosse replicato al Senato, così come ha chiesto Beppe Grillo oggi. Probabilmente il Movimento 5 Stelle, per quanto non sia così integralista, fondamentalista, sul fronte no Europa e no Euro, è comunque un elemento sgradito al potere perché è composto da cittadini in larga parte privi di un tornaconto economico e privi di un background burocratico di potere, per cui poco controllabili. Ecco, questo scenario in cui il Movimento 5 Stelle potrebbe vincere le elezioni e andare al governo è chiaramente uno scenario da escludere per le elite di potere, quindi faranno di tutto e quello che ci si può aspettare è che per la quarta volta, dopo aver avuto un governo tecnico, quello di Mario Monti, dopo aver avuto Enrico Letta e Matteo Renzi, adesso il rischio che per non sciogliere le camere e per non favorire il governo del Movimento 5 Stelle si scelga un altro burocrate che continui tutto sommato a fare gli interessi che fino a ieri sono stati fatti in favore dell'Europa, dell'Euro e delle oligarchie finanziarie. Qualcuno parla di un possibile governo Draghi, per arrivare a un governo Draghi è necessario che l'opinione pubblica ancora una volta sia preparata, come nel 2011, con la grande bufala dello spread che saliva e saliva artificialmente, sappiamo bene oggi quante decine di miliardi di euro di titoli di Stato italiani siano defluiti dalle casse della Deutsche Bank, trascinandosi dietro tantissimi altri investitori per il classico effetto Gregge che domina le borse e che poi ha portato quindi lo spread a salire come conseguenza e qualcuno ha cavalcato questa idea dello spread come un problema per lo Stato italiano con le conseguenze che sappiamo, governo tecnico, ribaltamento della democrazia, una democrazia mai più recuperata e quindi se lo scenario è quello di un governo Draghi da cui Dio ci scampi i liberi è chiaro che dovrà succedere qualche cosa. Quindi le due cose possibili sono o arriva un governo a 5 Stelle o succede qualche cosa per cui si inventano un'urgenza di quelle che sono capacissimi di inventarsi per cui alla fine il popolo invocherà a grandissima voce l'avvento di un tecnico, di qualcuno che possa portarci fuori dalle secche di autorevole a livello internazionale quindi ci proveranno con Mario Draghi. Io credo onestamente che a questo giro sia difficile dopo il Brexit, dopo Trump, dopo il no al referendum italiano io credo che la gente sia un po' stufa di governi tecnici, di tecnici, di spread, di fate presto, dice lo chiede l'Europa, io credo che forse ci stiamo avviando verso una nuova fase in cui o scoppia una rivoluzione o scoppia una guerra oppure ai cittadini spetterà finalmente l'onere di governare questo paese.